Allora, facciamoci un attimino serie perché l'argomento è interessante, sarà ospite con noi ad Infamiglia perché la sua azienda la conoscete anche grazie a Telerama, la conoscerete meglio anche grazie alle rubriche che vi presenteremo qui. Do il bentornato perché lui ormai è un volto di Infamiglia al dottor Giuseppe Cordella, occupometrista e proprietario dell'Ottica Cordella a Copertino. Bentornato, come sono andate le vacanze? Sono andate abbastanza bene. Ogni volta che ti chiamavo eri fuori? No, non sempre. Soltanto qualche giorno ci siamo presi di pausa, anche se grazie a Dio ci abbiamo sempre da fare. Esatto, però adesso è periodo importantissimo, non importante, mettiamoci anche due punti esclamativi perché ritornare dietro ai banchi di scuola, ritornare dietro nel nostro ufficio, ritornare insomma a mettere il focus sul lavoro qualunque esso sia, ci impone un'attenzione differente, una concentrazione più accurata e quindi uno sforzo del nostro occhio. Cosa dobbiamo fare in questo periodo se non una visita preventiva per cercare di captare in anticipo quelle che potrebbero essere le problematiche e quindi agire per tempo? Cosa si fa? Innanzitutto si dovrebbe fare, tutti dovrebbero fare prima di iniziare l'attività scolastica per i bambini o l'attività lavorativa per gli adulti, un'analisi visiva attenta e accurata. Perché questo? Perché innanzitutto ci si concentra meglio con una visione efficiente, primo punto importantissimo. Seconda cosa si lavora meglio se arriva a casa meno stanchi la sera, non si ha quella sensazione di sonnolenza, di pesantezza che si avverte dopo una giornata intensa a livello lavorativo, soprattutto chi lavora ai pc e ai videoterminali o chi sta a scuola con gli alunni, registro alunni. Quindi tutte queste attività che implicano uno sforzo del sistema visivo poi infigiano poi sul benessere e anche sull'umore della persona. Quindi è importante che il sistema visivo lavori bene. Io ci sono stata, devo dire la verità, perché dopo averlo conosciuto ho capito che lì non aveva bisogno insomma di essere guidato un po', perché ogni tanto lo vedevo perso. In realtà per capire e per spiegarvi meglio quello che il dottore racconta era indispensabile conoscere la realtà. E quindi anche attraverso poi dei video che ci ha mandato vi posso dire che la tecnologia di cui si serve il dottore è così altamente specializzata che più di 40 minuti e voglio essere stretta, il dottore veramente si prende cura della vista di ogni paziente. Non trascura nessun particolare, cioè vi va a fare dagli esercizi più semplici e banali a quelli più complessi per fare una valutazione veramente attenta e meticolosa e non si perde nulla, ve lo posso garantire. In queste rubriche infatti conoscerete volta per volta tutte le opportunità che avrete. Adesso in via sommaria state vedendo grosso modo tutto quello che c'è da fare. Ma poi questi esercizi che adesso velocemente vi stiamo dimostrando ve li racconteremo negli appuntamenti perché sono veramente straordinari e io me ne sono resa conto assistendo a quello che era un check-up di lino. Certo. È vero, sono essenziali. Magari escono fuori delle piccole problematiche che così non ce ne saremo mai accorti. Che uno le fa apparire normali. Per una persona no. Tutti noi abbiamo della sintomatologia, il mal di testa a fine giornata o il bruciore o la lacrimazione e noi pensiamo banalmente che sia una cosa normale averla. Ma in realtà non è così. Si può fare tanto, si può prevenire tanto soprattutto e un'altra cosa importantissima è l'attenzione. Perché dobbiamo sapere che se il sistema visivo è impegnato a sforzare da vicino chiaramente la performance sia lavorativa che scolastica cala. Invece con una compensazione adeguata o con degli esercizi di training visivo o con delle norme di igiene visiva che dopo ne parleremo e tutte queste componenti fanno sì che non ci si sforzi quindi aumenta l'attenzione, aumenta la comprensione, aumentano le performance lavorative. E soprattutto... Però il dottor Giuseppe Cordella non poteva arrivare alla prima puntata della sua rubrica di Infamiglia senza una cosa bella. Nel senso che oggi noi diciamo ai telespettatori che Giuseppe Cordella viene con una proposta chiamiamola commerciale perché poi tu vendi occhiali e lenti. Che cosa succede per i telespettatori di Infamiglia oggi? Allora oggi succede che c'è una promozione innanzitutto l'analisi visiva sarà gratuita come prevenzione nel mese di ottobre. Tutto il mese di ottobre e questo che è rimasto di settembre sarà completamente gratuita. Un'analisi visiva funzionale che non è la banale visita ma oltre a valutare la refrazione, quindi il visus valuta anche gli aspetti posturali a livello di sintomatologia, a livello vestibolare cioè di equilibrio, di percezione spaziale. Quindi una visita a 360 gradi. Di solito ha un costo base. E di solito ha un costo perché dura circa mezz'ora, tre quarti d'ora come dicevi tu prima. Quindi è gratuita fino al 31 di ottobre. Esatto. Come prevenzione. E solo questo come prima puntata? Non possiamo dare qualcosa di più? Sì. La montatura, facendo gli occhiali da vista, sarà gratuita fino ad un importo massimo di 100 euro. Hai capito. Sì. E questa cosa è sconvolgente dottore. Molto bene, bravo. Quindi per, magari per aiutare pure chi... In questo momento è vero che c'è la ripresa, però abbiamo fatto anche tante spese durante le vacanze. Perché insomma, no? Ci si concede un po' di più. Quindi per il bene della nostra vista si fa anche qualcosa in questo senso. Esattamente, Manuela. Quindi ripetiamolo, ripetiamolo. Analisi visiva gratuita, quindi fino al 31 di ottobre. In più, acquistando un paio di occhiali da vista, la montatura sarà gratuita fino all'importo di 100 euro. Completamente. Bello, bello, bello. Questo è di grande supporto. Gli amici a casa possono non solo chiedere informazioni più dettagliate al nostro numero, e soprattutto nelle prossime rubriche quando parleremo di determinate patologie voi potrete entrare e chiedere direttamente al dottore i vostri dubbi e fare delle domande direttamente al dottore. Lui vi risponderà anche qui in modo gratuito. Ma soprattutto potrete contattare l'Ottica Cordella. Ci avremo in sovraimpressione anche i numeri per potervi, insomma, dare. Quindi potrete segnarlo. Ma anche quelli più veloci sul sito internet ci sono delle pagine dedicate, possono chiamare, possono soprattutto prenotare la loro visita perché poi, essendo abbastanza lunga, c'è bisogno di avere un appuntamento. Sì, abbastanza lunga e poi ci sono tanti, tanti appuntamenti. Quindi in modo da dedicare il tempo giusto a ognuno per fare l'analisi visiva perfetta. Cosa sta succedendo in questo periodo che i bambini più piccoli hanno bisogno dell'occhialetto? Molti. Un aiuto? Molti, ma questo è dovuto... Ho avuto all'uso spropositato dei tablet e dei telefonini. Poi quest'estate, tanta luce, tante radiazioni. Sì, sì. Quindi tanti che iniziano la scuola. Magari bisogna sempre stare attenti, dico i genitori, ai campanelli d'allarme. Quali sono? Bambini che possono essere un bambino che si avvicina tanto nella lettura, quindi quelli che stanno attaccati al testo, quando scrivono, quando leggono, oppure quando si avvicinano tanto alla tv, quindi che stanno appiccicati, o quando iniziano a strizzare gli occhi, o quando si lamentano di mal di testa. C'è vari campanelli d'allarme per poter intervenire prima. Non sono delle lamentele che fanno ai bambini o dei capricci perché sta succedendo qualcosa. Sì, sempre. Questo uso esagerato della tecnologia, se da una parte è buono, dall'altra parte ovviamente è veramente dannoso. Però la cosa carina è che poi ci sono queste montature colorate che voi offrite, questi modelli fashion, che magari indossano anche calciatori, modelli, influencer, queste plurimarche può accontentare poi il gusto di tutti, anche il bambino che è scettico indossa questo occhialetto. Certo. E di conseguenza tutta la famiglia può scegliere quello che è più adeguato a loro. Ne abbiamo per tutti. Quindi sì, non ci sono problemi. Volevo dire un'altra cosa importante riguardo l'uso dei dispositivi digitali, una raccomandazione importantissima. mai utilizzare il telefonino prima di andare a dormire e magari con tutte le luci spente. E' una cosa dannosissima. Mamma mia. Anna Maria, stai sentendo, no? Non lo fare più, eh? Perché io te l'ho detto, non lo fare. Io proprio addormento col telefono. Perché Giuseppe? Perché oltre che a livello visivo noi attiviamo l'attenzione ed è il momento invece di dormire, perché è tutto buio, la pupilla si dilata e tutta la luce blu e l'energia dannosa che emette il dispositivo entra direttamente sulla retina. Altra cosa importante è che si smette di produrre la melatonina che è l'ormone del sonno. Quindi ci si alza stanchi. Quindi la giornata non si affronta più come si deve... Abbiamo risolto un altro problema, quello dell'insonnia. Esatto. Non dovete stare al telefonino, innanzitutto con la luce abbassata, perché noi pensiamo di avere più attenzione, no? Perché è tutto buio, quindi... Invece lì ci stiamo facendo due volte male. Uno è la pupilla si dilata perché ha bisogno di mettere più a fuoco, l'altro è che non si sviluppa più melatonina che la sostanza che concilia il sonno. Una cosa fantastica ci hai detto oggi. Importantissima, è responsabile di mal di testa, di nervosismo poi durante la giornata successiva, di malumore, perché non si riposa più bene, come si dovrebbe. Ecco, questi consigli utili, a volte banali, per chi li ha già sentiti ma magari non capisce e bisogna ripeterli o magari per chi proprio non li sa sono fondamentali ed è qui che sei funzionale alla comunicazione sociale che la nostra trasmissione vuole dare oltre che all'aspetto commerciale e promozionale della tua attività. Però com'è andata quest'estate? L'azienda è andata bene, vero? Tantissimi clienti. Sì, 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 sì. Da ogni dove sono arrivati? Sì, grazie a Dio lavoriamo bene con tutto il Salento e non solo, anche col Brindisino qualcuno. Ma vengono principalmente per l'analisi visiva funzionale. Siamo pochi a farla con determinate tecnologie, con determinate tecniche. Quindi risolviamo il problema a 360 gradi. E oltre a quello, poi ne parleremo nelle puntate successive, abbiamo una strumentazione alla vanguardia per le lenti progressive, per quanto riguarda l'adattamento alle lenti progressive, per gli esercizi visivi. Cioè abbiamo, diciamo, cerchiamo di dare il massimo servizio. Posso confermare, quindi se vi abbiamo incuriosito, intanto non esitate a prenotare la vostra visita perché è gratuita fino al 31 di ottobre. Quindi non vi fate, non perdete questa occasione, sarebbe veramente un peccato. E poi andate a conoscere personalmente la realtà che vi raccontiamo perché poi ci chiamerete e ci darete ragione. Vero? Perché chi dice la verità vince sempre. Certo. La tecnologia ti aiuta tanto, sei uno dei pochi ad avere alcune strumentazioni in questo territorio, quindi anche questo è un vanto per la tua azienda, e poi uno staff qualificato che supporta la vendita e consiglia bene anche il cliente. Ci sono due dottoresse, tutte e due laureate in ottica optometria, quindi cerchiamo di dare il massimo come servizio. Lanciamo l'argomento della prossima settimana, così gli amici potranno prepararsi già delle domande. Di cosa parleremo? Prossima settimana vorrei parlare delle lenti progressive, quindi dell'utilizzo delle lenti progressive e dell'adattamento, perché non ci si adatta alle lenti progressive, cosa bisogna fare per adattarsi, quindi aiuteremo in questo senso. Se avete avuto questi tipi di problemi e quindi se avete avuto problemi ad adattarvi con la lente progressiva, quando magari vi è venuto un po' il mal di stomaco, quando dovete spostare l'occhiale per vedere, quando insomma avete avuto fastidi di tutte le caratteristiche, segnatevi le domande, diteci cosa avete provato, perché settimana prossima, quando ritornerà Giuseppe Cordella, potrete chiamare, entrare in diretta con noi e fare una domanda. E magari sì. Salve, ma leggere il tablet prima di dormire è possibile? Possibile, tutto è possibile, però il problema è sconsigliato, bisogna spegnere i dispositivi digitali almeno un'ora prima di andare a dormire, quindi e soprattutto non usarli al buio, questo è quello consigliato. Sì, si può fare, chiaramente non col tablet nel letto, ecco è tutto svegliato. Quindi tablet, telefonino e la stessa identica cosa. Sì, sì, è la stessa cosa. Cioè, magari il signore ti riferiva alla dimensione. No, è uguale, è sempre un dispositivo digitale che comunque emana una luce blu che è dannosa la sera, perché non tutta la luce blu è dannosa, poi serve ad attivare l'attenzione. Quindi sì, è sconsigliato un'ora, almeno un'ora prima, ecco, di usarlo. Bene. E allora grazie Anna Maria, grazie agli amici che hanno già interagito. Io saluto Giuseppe Cordella, anche lo staff che ci segue da Copertino e che supporta tutti i clienti.